migliore colomba artigianale 2021 sebbaziano gheridi grazie intanto per la creazione apriamo scapicchio scapicchio piano piano allora intanto divina colomba quindi miglior primo classificato miglior colomba divina colomba qui poi c'è l'accademia di maestri pasticcere italiani l'altro bastiano è stato anche il più grande pasticcere d'italia aspetta che forse funziona la dimensione l'altezza proprio dell'altezza andiamo al taglio vado eh pronti? wow è rotonda è un mappamondo vado vado vado